Attività intestate fittiziamente ad altre persone per ottenere i contributi europei aggirando la normativa antimafia e ripulendo anche il denaro tramite operazioni illegali come l'emissione di fatture false e anche l'appropriazione di pascoli demaniali sempre per percepire i fondi comunitari. Ruota intorno a questo contesto l'operazione della Guardia di Finanza di Enna che ha portato all'arresto di 13 persone, 7 in carcere, 6 domiciliari tra cui figurano anche un avvocato del foro di Catania e l'ex direttore dell'azienda speciale Silvio Pastorale di Troina. I militari della Guardia di Finanza, su disposizione del GIP di Caltanissetta, hanno anche sequestrato somme di denaro, società e aziende per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Diversi reati contestati a vario titolo agli indagati, interposizione fittizia, truffa, falso e reimpiego di capitali illeciti per una serie di episodi che riguardano le zone di Centuri per Regalbuto, Troina, Adrano, Catani e Randazzo. Secondo la ricostruzione dei magistrati della DDA Nissena che hanno coordinato l'inchiesta, gli indagati erano riusciti a ottenere indebitamente l'accesso agli aiuti comunitari e poi tramite operazioni di ripulitura del denaro di provenienza delittuosa, come ad esempio l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, a rientrare nella disponibilità delle stesse ricchezze. Investigatori inquirenti hanno anche parlato di attribuzione fittizia della titolarità di aziende e proprietà immobiliari. Inoltre gli indagati, grazie alla complicità dell'ex direttore della ditta Silvio Pastorale di Troina, erano riusciti a ottenere l'accaparramento incondizionato di pascoli demaniali per un totale di oltre 1.181 ettari per continuare a percepire fondi pubblici senza il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, aggirando fraudentemente le regole previste dal codice antimafia. I corrispondivi previsti dai contratti sarebbero stati frazionati al fine di eludere il codice antimafia che prevedeva una soglia di 150.000 euro, oltre la quale risultava obbligatorio per la pubblica amministrazione richiedere l'informativa antimafia, che nel caso di specie avrebbe certamente impedito l'accesso alle assegnazioni dei pascoli ad alcuni degli indagati, così come infatti è accaduto.